Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MonoSport 07 Siamo qui per parlare di Juventus ragazzi Sì mi vedete anche in tema estivo dopo tanto tanto tempo Dovete ringraziare due persone però se mi vedete in tema estivo innanzitutto Vabbè, i miei zii che mi hanno regalato la maglia Ma soprattutto le mie ragazze che mi hanno insegnato a piegarle Perché poi per rimetterle nell'armadio tra le robe estive ci mettevo un'eternità Quindi meno male Allora, allora, allora ragazzi Parliamo di Juve Parliamo di Juve perché è giusto Perché ci sono tanti di quegli argomenti che ho detto Bah, oggi faccio un video sul possibile ritorno di Allegri No, faccio un video sulle colpe di quelle che sono le colpe di questo anno No, faccio un video su Ronaldo Va via ragazzi, riassumo tutti in un video Faccio prima E cercando di farlo durare il meno possibile Perché conoscendomi adesso il video durerà mezz'ora Spero di farcela almeno per i 15 minuti ragazzi Anche perché è la seconda volta che lo registro in sto video La prima volta mi è andata a puttane e vabbè Quindi mi tocca pure riregistrarlo Vabbè, queste sono difficoltà che ti vengono fuori Perché una volta che fai video del genere Non è tanto ci sta Così come per sbaglio la foto non la scatti Quando uno fa il complanno Capitano anche di queste cose ragazzi E nulla ragazzi Allora Praticamente innanzitutto ci tenevo a dire la mia Sono a questione Pirlo Sarri Perché più volte io ho detto Che Sarri andava esenerato Perché in quel momento andava esenerato Ma se c'era di meglio in giro Prendevi di meglio e non Pirlo Cioè ragazzi Pirlo ha tantissime colpe Quest'anno non è solo colpa di Pirlo Se lo vive quest'anno è fallita Ci mancherebbe altro Anche se Pirlo poteva metterci del su A limitare questo fallimento Se Pirlo in questo momento era terzo A 20 punti di distacco dall'Inter Ma sicuro della qualificazione In Champions League Penso sarebbe un'altra cosa Alla fine ha portato un trofeo a casa In Champions si è qualificato La luce che si spegne Vabbè È incredibile sta luce In Champions perlomeno Perlomeno si è qualificato Quindi insomma ragazzi Era un altro discorso Qui rischiamo di non qualificarci alla Champions Di perdere 90 milioni Vendere Ronaldo Vendere Dybala Vendere praticamente tutti E smantellare la Rosa ragazzi Perché abbiamo anche dei debiti Che ci ha portato appunto Cristiano Ronaldo Vabbè a questo magari Ci arriveremo Anzi preferisco anche parlarvi Proprio faccia a faccia Così poi magari Visto che sembro più figo Dopo li rimetto Innanzitutto io dico che Sarri Sì in quel momento andava esonerato Ma magari non per Pirlo Perché Sarri aveva un problema in attacco Il resto la squadra Sarri La faceva girare Non era neanche fin troppo demotivata Era un problema più di calciatori Perché Sarri si è ritrovato per le mani Una Rosa veramente schifosa Cioè io sarei stato Molto ma molto 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 curioso Rivedere Sarri con la Rosa di quest'anno Non è mai stato uno Che punta sui giovani Sarri Ma più presenze A fra botta e fagioli Le avrebbe fatte fare Cioè ragazzi Sarri l'anno scorso Giocava con Bernardeschi Litolare Aveva problemi in attacco Perché non riuscivamo In qualche modo a segnare E o ce la decidevano Di ballo Ronaldo O non si sapeva Perché se giocavi Con il trequartista Ramsey era nullo E non è che quest'anno Si è cambiata tanta la situazione Rabiot Quest'anno è discontinuo L'anno scorso E faceva solamente cagare Meno male che nella seconda parte Di stagione È riuscito a fare qualcosa Rabiot Per il resto Ragazzi Boh La Rosa di Sarri Era quella Centrocampo Ha giocato tutte le partite Con Pjanic Bentancur e Rabiot E a volte Non so perché Gli uscivano in 5 minuti E metteva fuori Pjanic Per Matuidi Mettendo Bentancur regista Quindi Veramente Vabbè Però in attacco Ragazzi Le scelte erano quelle Iguain Che la seconda parte di stagione È come se non c'era Perché la seconda parte di stagione Era come se non c'era Iguain E vabbè Io avrei voluto vedere Sarri con un Morata Il posto di Iguain Alternava Di Bale Morata in attacco E il problema Magari in qualche modo Lo pervenivi Lo prevenivi Come si dice A destra aveva solamente Bernardeschi Perché Douglas Costa Era fuori tutto l'anno Ragazzi Quadrato faceva il terzino Quindi insomma Che volevi fare A destra avevi solo Bernardeschi A sinistra Iguain In attacco Solo Di Bala Perché praticamente Iguain Era come se non c'era Io avrei voluto vedere Sarri con chiese Kulusevski Che certo Kulusevski Non sta facendo Una grandissima stagione Ma 6 gol e 3 assist Da riserva Li ha fatti 6 gol e 3 assist Ragazzi Che non sono pochi 6 gol e 3 assist È un rigore procurato Quindi Sarri Sì ha delle colpe Ha vinto solo un trofeo Ma ha delle colpe Fino a un certo limite Perché io avrei voluto Vedere Sarri Con Arthur McKennie Centrocampisti giovani Che si inseriscono Che non sono sempre rotti Con chiese Kulusevski È vero che anche quest'anno La Juve Sempre rotti eravamo Però A questo ci arriviamo Una delle colpe di Pirlo È che quando eravamo Sempre rotti Manco metteva i giovani Ma faceva ancora stancare di più Quelli che giocavano sempre Cioè dico io Cioè tutti rotti Sul 3 a 0 Che ti costa Mettermi fra botta Fagioli Magari esplodono E ci fai plus valenza E come si fa all'estero Sul 3 a 0 Metti che ne so Un giovanissimo Lionel Messi Ti fa il 4 Il 4 e il 5 a 0 E da valere 100 mila euro Questo giovincello Che ti ha fatto Che ne so Qualche gol in primavera Ti va a valere 5 milioni Lo puoi prestare Ti esplode E ti fa una plus valenza Perché Ecco quindi insomma Voglio capire Questo è uno degli errori di Pirlo Adesso ci arriviamo Quindi io Prima di parlare di errori di Pirlo Volevo dirvi È inutile dire Pirlo almeno ci ha ridato Qualcosa rispetto a Sarri No ragazzi Sarri ha vinto uno scudetto Pirlo può pure Qualificarsi in Champions E vincere Coppa Italia Ha vinto un trofeo più di Sarri Ma per me lo scudetto È un trofeo che vale per 3 Cioè ragazzi Allora sotto questo punto di vista Noi quest'anno Se vincevamo la Coppa Italia Siamo stati i migliori dell'Inter Perché l'Inter Vincesero lo scudetto E la Juve Coppa Italia Supercoppa Beh no Lo scudetto è un trofeo Che vale per 3 Per me eh Se poi tu vincevi Supercoppa Coppa Italia Champions League Allora beh Era tutta un'altra roba Pirlo sicuramente Non è solo colpa sua Ma lui ha le sue colpe Ragazzi Lui ha sicuramente Le sue colpe Pirlo Perché Ha i suoi pro Perché ha i suoi pro Ed elenchiamo i pro Innanzitutto È stato bravo a vincere Qualche scontro in diretto Perché non ha perso Tutti i scontri in diretto Ok Con l'Atalanta Un pareggio è una sconfitta E Pirlo più che altro Ha perso Quei punti stupidi Per esempio Due pareggi col Verona E un pareggio col Verona Te lo puoi concedere Ma due no Cioè due pareggi col Verona Pareggio col Verona Il Crotone Un pareggio E una sconfitta Con la Fiorentina Sconfitta con il Benevento Pareggio e sconfitta col Benevento Cioè ragazzi Abbiamo fatto un punto In due partite col Benevento Un punto in due partite Con la Fiorentina Due punti in due partite Con il Verona Cioè ragazzi Sono punti persi Che pesano Pesano e pesano Col Torino Rischiavi di non vincere All'andata E al ritorno All'è pareggiata Quindi queste sono Le colpe maggiori di Pirlo Aver perso punti Contro squadre del genere In classifica Secondo il mio Il mio punto di vista Ecco Però negli scontri diretti C'è anche da dire Che qualche scontro diretto Pirlo l'ha portato a casa Vedi il 3-0 Al Camp Nou In campionato comunque Qualche vittoria Negli scontri diretti L'ha fatta Con la Lazio Quattro punti in due partite Con la Roma Quattro punti in due partite Con il Milan Hai fatto un capolavoro Con l'Inter In Coppa Italia Hai fatto anche Una bella prestazione Non tanto per i gol Perché alla fine Siamo arrivati con un errore loro E con un rigore Però nei due match È stato il più forte Con l'Inter Quindi c'è una buona Una grande prestazione Con il Napoli Comunque in campionato Ne hai persa una Ma neanche vinta una Comunque proponendo un bel calcio In Supercoppa Comunque un trofeo L'hai vinto Hai vinto bene La Supercoppa con il Napoli Anche se quella Supercoppa Alla fine Partita equilibrata Alla fine l'hai decisa Perché hai avuto Un po' di fortuna in più Diciamo così Ma Ha anche avuto Tanta sfortuna Pirlo Soprattutto nel prima Martiri stagione Questo c'è da dirlo E anche in Champions Ma non fatemi ricordare Quindi ragazzi Ha portato un trofeo a casa Comunque E in finale di Coppa Italia Ha la media goal Media goal fatti Migliore degli ultimi tre anni Cioè Ora non so come andrà a finire Ed è chiaro che Se da qua fino alla fine Non fa più manco un gol La media goal diminuisce Però ragazzi Se prendiamo gli ultimi tre anni Quindi Allegri Bisogna ripirlo Pirlo è quello che ha La miglior media goal fatti E la migliore media goal subiti Se consideriamo Solo i gol su azione Quindi Esclusi le palle inattive Per farvi capire Quindi calci di punizione Calci di rigore Anche perché quest'anno Subiamo sempre gol su punizione Su rigore Sono più i rigori Che ci hanno segnato Di quelli che abbiamo segnato noi Sono più le punizioni Che ci hanno segnato Di quelli che abbiamo segnato noi Eppure noi in rosa Abbiamo campioni Come Ronaldo Che ne ha segnata Uno in tre anni Di punizione Quindi Questo è uno dei problemi Di quando andare a parlare dopo Perché è un vero leader Ragazzi Vediamoci chiaro Le punizioni Le lascerebbe a Dybala Le avrebbe lasciate a Pjanic Quando vede che lui Non le butta dentro Manco per sbaglio Quindi È una cosa che mi fa Un po' pensare Ora che dicevo Ho detto I pro Di Pirlo Il fatto che ha vinto Gli scontri diretti Ha comunque vinto Un trofeo E comunque In finale di Coppa Italia Quindi può vincere anche il secondo La media goal fatta I migliori di tre anni La miglior media goal subiti Eccetera eccetera Anche se c'è da dire Che ha la peggior percentuale Di vittorie Degli ultimi tre anni Anche questo va detto Ha anche detto che Giacchiera Rosacorta Punta sui giovani È una cosa che hai fatto all'inizio E anche Obbligatoriamente Cioè nel senso Che senso ha Che tu In partite decisive Mi metti Fra botta Titolare A volte anche Portanova E invece Quando vinci 3 a 0 I giovani Non me li hai messi Nella seconda parte di stagione Qualcosa che non c'è Cioè fra botta Io l'ho sempre detto Non è tutto sto giovane Mi piaceva molto più Portanova Ma fra botta Ha fatto comunque Un gol in assist Quando è tornato Alexandro Le ha giocate tutti Alexandro A meno che non veniva Adattato Danilo a sinistra Le ha giocate tutti Alexandro ragazzi E fra botta Un gol in assist L'aveva fatto Dico io Mettimelo sto cazzo Di fra botta Perché Alexandro Si vedeva che non ha voglia di giocare Se togliamo la doppietta Che ha fatto Contro Chi è che ha fatto La doppietta Alexandro Vabbè Uno non mi sta avvenendo Però ultimamente Ha fatto la doppietta La partita prima Della Fiorentina Era comunque Ma non ricordo proprio Chi sia Proprio ogni tanto C'ho i vuoti di memoria E vabbè Mi sa il Genoa Il Genoa Ecco Però Che ha segnato anche Delict E vabbè Però ragazzi C'è da dire Che Per me Qualche giovane Andava messa Appunto Chi è la rosa corta Quando non avevi Nessuno al centrocampo Fagioli 20 minuti a partita Fammi di giocare Perché sembra Veramente Veramente forte E invece L'hai messo di ritornare In Coppa Italia E poi Il vuoto Bisogna aspettare Bah Quindi spremiamo Art Art Spremiamo Rabiot Che si è una giocata E 30 di fila Questo già è discontinuo Figurati se lo metti sempre Spremiamo Bentancur Che ormai Se le gioca tutte Non lo so Spremiamo Meccanica Che ha il problema All'anca Da tre mesi E da tre mesi Non è più lo stesso Anche se con tutto Che non è più lo stesso Sempre meglio Di qualche altro Centrocampista Che abbiamo Quindi Non lo so Frabotta Comunque un gole Nassi L'ha fatto Portanova Quando ha giocato Ha anche fatto vedere Delle belle cose Raffiati Ha deciso comunque Un ottavo di finale Di Coppa Italia Fagioli ha fatto due presenze In croce Si diceva un gran bene di lui Di Pardo e D'Agrac Hanno fatto un assist a testa Eppure Il campo non l'hanno visto più Felix Correa Che abbiamo pagato 10 milioni Abbiamo pagato 10 milioni Per deciderci Il campionato di Serie C Di primavera Guardate un po' Come stiamo inguaiati Cioè non lo so L'ha convocato due o tre volte Non ha fatto una presenza Dragosin Che quando si è fatto vedere Si è fatto sempre vedere Veramente bene Si è detto sempre Un gran bene di lui Eccetera eccetera Può fare difensore centrale Terzino destro E non ha più visto il campo Io non lo so ragazzi Perché non ha voluto puntare sui giovani E questa è una delle colpe di Pirlo La squadra demotivata Un calcio senza idee Perché all'inizio ragazzi L'importante per me È averla l'idea Poi puoi sbagliarla Ma l'importante è averla l'idea Nella seconda parte di stagione Dopo il porto Pirlo non ha avuto idee Cioè dico io Se vedi la squadra demotivata Abbi un po' di coraggio Un po' di palle O di mettere dentro Frabotta per Alexandro O di mettere fagioli Per Arthur O per Rabiot Ma cambiami qualcosa Perché senza cambiamento La squadra rimane così Non è che arriva l'angelo dal cielo E ti dice Bah adesso ti faccio vincere le partite Lo puoi fare con lo spezzo e col crotone Ma nei Negli scontri Dove richiedi un po' più di attenzione O ti va di culo O ti va male Per farti capire Oppure te le decide un gran calciatore Che è Federico Chiesa Quando non c'è stato Chiesa Sei andato in tilt Sei andato in tilt O se Chiesa gioca male O se Chiesa non c'è Praticamente Tu sei praticamente Andato in tilt La squadra Si è demotivata ragazzi Quindi non è avuto le palle Per me di cambiare modulo Di cambiare qualcosa Di cambiare i giocatori in campo Di dire Ora ritorna fra botte Non è più Alexandre il titolare Di dire Cambio qualcosa Cioè ragazzi Veramente incredibile Abbiamo giocato Che durante la stagione C'era una disorganizzazione tattica Veramente incredibile Perché terzini destri Alla Juve Ci hanno giocato De Ligt Dragusin Danilo E Quadrado Quattro giocatori per un ruolo Di esterni destri In quella posizione del campo Quindi esterno destro Ci hanno giocato Quadrado McKennie Bernardeschi Kulusevski Chiesa Ragazzi L'hanno fatto tutti Per non parlare a sinistra Esterni di sinistri L'hanno fatti Bernardeschi McKennie Ramsey Chiesa Cioè ragazzi Quadrado Anche con la Roma C'è stata una disorganizzazione Tattica Impressionante Terzini sinistri Ci hanno giocato Alexandro Danilo Frabotta Bernardeschi Quadrado Cioè è un qualcosa Di spiegabile Quanti cazzo Di cambio modulo Ha fatti Cioè non di cambio modulo Di Di cambi ruolo Ha fatto Il che È anche giusto Da un lato di vista È un lato di emergenza Ma farlo sempre no Quadrado non si capisce Se dire Perché quando ci sono Danilo Alexandro E Quadrado Tutti e tre insieme Non si capisce Chi sono i titolari Io voglio capire Se tu avevi tutti i titolari Dall'inizio della stagione Chi mi mettevi in panchina Tra Danilo Quadrado E Chiesa Che insieme Non possono praticamente Coesistere A meno che non metti Danilo a sinistra Però in quel caso Alexandro ti diventa riserva Perché sarebbe anche un bene Cioè io veramente Non si capisce Allora O mi cambi modulo Ma cambi qualcosa Perché quando vedi Nella seconda parte di stagione Post Partita col Porto Una squadra così demotivata Che ti perde col Benevento Che ti pareggia col Bottorino Abbi il coraggio Di cambiare qualcosa E Pirlo Questo coraggio Non l'ha avuto ragazzi Chiaramente non l'ha avuto Ha gestito male Ronaldo Perché ci sono state partite Dove Diceva lui Io tratto Ronaldo Come tratto fa botta E quindi Ronaldo Era solo un valore aggiunto In questa squadra Il che rispecchia Anche il mio modo di vedere Ma neanche che In certe partite Cerchi sempre Ronaldo Mettendolo al centro del gioco In certe partite no Dipende dall'avversario Chiaramente Ma veramente Non se ne è capito Assolutamente nulla E se ho gestito male Anche a livello fisico Perché se Ronaldo Ti dice Io voglio giocare Col Ferenc Baros Allora se hai le palle Di non incentrare il gioco Su Ronaldo Mi deve avere anche Le palle di dire No Ronaldo Noi in Champions Ci siamo già qualificati Tu col Ferenc Baros Non giochi Cioè non non giochi Magari non ti fai Tutta la partita Se hai proprio voglia Di riposare Ma in campionato Mi serve recuperare Tu in trasferta Col Benevento Ci devi essere Che poi il problema Era Ronaldo Come se non era Ronaldo Non ho capito Se mai il problema è inverso Perché all'andata Senza Ronaldo È pareggiato Il ritorno con Ronaldo È perso Quindi È un po' Contraddittorio Anche Anche questo Questo discorso Ragazzi Con la Fiorentina È fatto un punto In due partite Con Ronaldo Quindi alla fine A parte che riusciamo Anche a criticare Quello che è in questo momento Il capocannoniere In discorso della Serie A Perché il capocannoniere Con quattro gol Di vantaggio su Lukaku Il che non è da poco Ragazzi Però eppure Ci sono troppe partite Dove Ronaldo È sparito Dalla circolazione Del gioco Della Juve Il che è veramente Oppure dove si dibore I gol Come con la Fiorentina Che Kulviseski Fa un capolavoro di cross E lui si dibore il gol Un Ronaldo senza stinguine Un Ronaldo che è arrivato Fin in fondo A tutte le competizioni Nella sua carriera E ora dove non c'è arrivato Sembra un po' fare i capricci Il che non mi sta bene Quindi per me Ronaldo bisogna venderlo E questo è un altro punto Che vi dico Per me Ronaldo Bisogna venderlo ragazzi Ma perché dico Ronaldo bisogna venderlo Secondo me è anche lui Che lo decide Cioè il destino di Cristiano Ronaldo Non lo può decidere Alla dirigenza della Juve Lo decide molto molto Più lui e il suo interuaggio Secondo il mio modo di vedere E a parte che ora Che si parla Di Allegri Che torna Contemporaneamente Si parla di un Marotta Avvicinato alla Juve Paratici e Nedvedi Che sono in scadenza Di contratto Mi fa tanto pensare Che Allegri Tanto Quando se n'è andato Non voleva Fuori di Bala Ma più che altro È stato Ronaldo A volere La testa di Allegri Prima E di Sarri Poi Quindi questo Mi fa veramente Riflettere Perché nel momento in cui Ronaldo non ha più voglia Ronaldo in discussione Ronaldo potrebbe essere Ceduto Si parla Di Allegri Guarda caso Quando anche Paradice e Nedvedi Sono in scadenza di contratto Quindi è stato Agnelli Ronaldo Paradice e Nedvedi A chiedere La testa di Allegri A voler esonerare Allegri C'erano delle vedute diverse Questo è certo Ma ci sono sempre Delle vedute diverse A modo mio Di vedere nella vita Quindi insomma E non puoi pretendere Andare sempre d'accordo Almeno secondo me È molto rivedere Quindi insomma Perché Agnelli Ha esonerato Allegri Dicendo questa cosa qui Cioè veramente Per me Tutti questi tassali Che si ricompongono Sono un po' strani C'è tanto di veritiero Ragazzi Perché io non so Cosa c'è nella testa di Allegri Ora Io sono un comune ragazzo Un comune coglione Che parla della Juventus Ora Vi posso pure dire Per me da domani Allegri viene sicuro Posso dire quel che Dice il mio intuito Ma io Mi affido ai siti Cioè mi affido ai siti Quelli che vedo Le notizie di calcio E mi devo affidare a loro Perché io non sono Nella testa dei presidenti Non so cosa succede Nello spogliatoio Può darsi anche Che adesso Bonucci Ha tirato un cazzotto A De Ligt Vedremo Bonucci partire Ma non sapremo mai Che è partito Perché ha tirato Un cazzotto A De Ligt Vi faccio Questo esempio Quindi insomma ragazzi Questo È il mio modo Di ragionare Parlando anche di altre cose Io penso che Per quanto riguarda il mercato Plus Valenza Eccetera eccetera Io credo che quella Le fai senza problemi Se vuoi fare proprio Plus Valenza Accetti lo scambio Romagnoli-Bernardeschi Anche se con Bernardeschi Varei sia una minusvalenza Accetti questo scambio E ci aggiungi anche Un conguaglio Perché il Milan Non è Del tutto convinto Adesso vi spiego Anche perché Aggiungerei il conguaglio Perché poi Con quei soldi Ti porti Romagnoli a casa Hai un difensore in più E ti liberi Di De Miral Che vale una quarantina Di milioni E già con De Miral Hai fatto un'ottima Plus Valenza Per dirne una Potresti vendere Magari qualche Centrocampista Mi viene il caso Di dire Bentancur È l'unico Con cui puoi fare Una plus valenza Perché Magari anche Che rapido il Ram Se il Ram Si è venuto A parametro zero Se lo vuoi vendere Magari anche A 20 milioni di euro Una plus valenza Ce lo fai Ma secondo me 20 milioni Non ti dà nessuno 15 sì Ma 20 non penso Quindi insomma La fine La plus valenza In un modo Nell'altro Ce la fai Con Ducas Costa Non penso proprio L'andresti a fare Perché Se lo vendi È per 10 milioni Quindi tutti questi Tassali che si rincompongono Io Ronaldo Sì Lo manderei via Mi ha fatto veramente 100 gol in tre anni Però Non lo so Io vedo Non riesco Incentrare tutto Su un 36enne Perché Ronaldo Lo paghi 85 milioni L'ordi all'anno 30 milioni per lui E poi se metti L'ammortamento La gente Eccetera eccetera Alla fine È un demotivatore Dei giocatori Ronaldo Perché i giocatori Si sono diminuiti Le statistiche Per far segnare lui Magari Anche se punizioni Rigori Che lo vuole tirare Tutti lui Si va a prendere Questi 80 milioni annuali Tra ammortinamento E ingaggio Eccetera eccetera Aumenta la pressione Perché tu dici Con Ronaldo Devi inizio per forza La Champions League Siamo fuori dalla Champions Con Ronaldo Quindi ti aumenta Anche la pressione Che da un punto di vista E anche Quindi insomma Per me Il ritorno di Allegri Non è detto Che Allegri torna E ti vince lo scudetto Sarebbe bello Vedere Allegri contro Conte Ragazzi Veramente bellissimo Però per me L'Inter potrebbe anche Vincere il secondo scudetto Di fila Perché Per tornare a vincere Il telefono di scudetto Per tornare a vincere Hai anche bisogno Di perdere un pochettino Prima Un po' come ha fatto la Spagna Che è uscita Ai gironi Dei mondiali Beh Però poi dopo Successivamente Un po' è cresciuta E in qualche modo Si è anche rifatta Perché se andiamo a vedere Adesso la Spagna È una squadra Che comunque Ha riacquisito Rispetto in Europa E parte anche Tra le favorite Per me A Euro 2021 Ma così come la Spagna Vi posso fare Tanti altri esempi Di altre squadre Che magari Sono in un primo momento Crollate Per poi magari Essere Ritornate grandi Ecco Quindi insomma Io non lo so Ora cosa succede Ragazzi Nella testa Di tutti quanti Però io so Che tutta questa situazione Non me la conto Giusta E che tutto Tutto Ripenderà Dalla qualificazione In Champions League È una situazione Delicata Tudor Non ti consente Di avere un'idea Diversa Da Pirlo Magari Tudor Giusto per dare uno Scorsone Lo metti Ma non credo mai Lo riconfermeresti Perché già Vedere che Siamo passati Da Agnelli Da Allegri a Sarri Da Sarri a Pirlo Poi da Pirlo a Tudor Mamma mia Di male in peggio Chiellini e Buffon Chiellini e Buffon Non saranno mai Un problema Per questa Juventus Secondo me Devo rivedere Perché appunto Hai bisogno di fare cassa Quindi è inutile Che mi viva a vendere Chiellini e Buffon Per prenderti Un altro difensore Un altro portiere Chiellini 20 partite all'anno Te le fa Chiaramente Sempre Con gli infortuni Eccetera eccetera Però 20 partite all'anno Penso che te le faccia Quanto alla questione All'allenatore Ed è l'ultima cosa Non proprio come l'ho iniziato Con gli occhiali da sole E Si è parlato anche di Flick Io Flick Alla fine Chi non vorrebbe Flick In questo momento ragazzi E ti offre un gioco Spumeggiante Della Madonna Col Bayern Monaco Anche senza Lewandowski Figurati se non lo vorrei Nella mia Juve Flick Allegri mi andrebbe bene Se vi devo dire Qualche altro nome Io dico De Zerbi E appunto Serei curioso Di rivedere Sarri Con una rosa del genere Anche se ormai Sarri Non ha creato alchimia Le sue Dichiazioni Quando ero a Napoli Pesano tanto Però Se mi parlate solo Della natura Sarri Sarebbe veramente Sarei veramente curioso Di rivederlo a Torino Così come anche De Zerbi Sarebbe buono Spalletti non mi piacerebbe tanto Zidane Costa Guardiola Praticamente ti fotti Tutto il calciomercato Perché lo vai a pagare Veramente Lo vai a strapagare Quindi io vi dico Le mie idee Zidane mi piacerebbe Ma Mi fa un po' Storcere il naso I miei preferiti Sono Allegri Flick E per ripartire Perché no De Zerbi Gattuso A me non andrebbero male Ragazzi Vediamo Perdere Aiuterà a vincere L'anno prossimo Però se usciamo fuori Dalla Champions Sarà veramente Un disastro Ragazzi Detto questo Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Se ti è piaciuto Di darci Mi piace A casa contraria Un dislike Comenta Se siete d'accordo O disaccordo Con me Se non è ancora fatto Iscrivetevi al canale In descrizione Il link Per sicuramente Su Instagram Da Monosport07 È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi E noi ci vediamo